Ma gli inglesi, meno di due mesi fa, hanno voluto virare a sinistra dopo 15 anni di buon governo di centrodestra? Ecco, per cui a me della potenziale guerra civile tra il mondo musulmano e gli anglosassoni non me ne può fregar di meno. Anzi, paradossalmente sarei quasi contento se l'Islam e la legge della Sharia prendessero il sopravvento, così poi vediamo le femministe quando saranno costrette a indossare il burka e a stare zitte. Cosa diranno? Vedremo poi il mondo delle comunità LGBTQ quando nessuno potrà più dichiararsi gay o lesbica. Cosa succederà? Perché vuoi o non vuoi, con tutti i difetti che ha il centrodestra, il centrodestra è l'unica forza politica che garantisce la libertà. Al 100%. Ricordate, non potete essere di sinistra, gay, femministe e però voler integrare l'Islam perché è un cortocircuito pazzesco.